Nuovo appuntamento con il meteo e con le previsioni a cura del meteorologo Giuseppe Stabile di meteosette.it. Giuseppe vogliamo partire innanzitutto dalla situazione attuale del tempo. La nostra regione è interessata dal passaggio di una moderata perturbazione di origine atlantica che determina condizioni di tempo instabile con associate precipitazioni. Si tratta della prima di una serie di perturbazioni che ci interesseranno nel corso della prossima settimana. Cosa ci attende invece per domani, sabato 19 e domenica 20 gennaio? Per domani, sabato 19 gennaio, avremo cielo molto nuvoloso ovunque con precipitazioni di moderata intensità. Nelle prime ore della giornata i fenomeni potrebbero assumere caratteri di rovescio anche temporalesco, nevicate in appennino a quote superiore ai 1300-1400 metri, temperature in lieve diminuzione, venti tra deboli e moderati da libiccio e mare mosso. Domenica 20, cielo irregolarmente nuvoloso con basso rischio di precipitazioni. Tra il pomeriggio e la serata la nuvolosità tenderà ad aumentare, ad iniziare dal settore nord-occidentale della regione con associate precipitazioni nel corso della notte, temperature senza variazioni di rilievo, venti deboli di direzione variabile con tendenza a disporsi da sud dalla serata, mare da poco mosso a mosso. E sulla tendenza della prossima settimana invece cosa ci puoi dire? A partire da lunedì è previsto un importante cambio di circolazione a causa dell'affondo sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo di una depressione nord-atlantica, depressione che nei giorni a venire verrà alimentata da aria molto fredda di origine polare che causerà una fase di maltempo piuttosto intenso. Almeno fino a giovedì 24 gennaio la nostra regione sarà interessata da frequenti ed abbondanti precipitazioni che assumeranno carattere nevoso a quote di montagna con locali sconfinamenti anche a quote di alta colorina, una situazione che potrebbe subire un ulteriore peggioramento nel corso del prossimo fine settimana a causa di un maggior apporto di aria fredda, ma per maggiori dettagli invito i telespettatori a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteosette.it